ciao a tutti e benvenuti in questo primo video tutorial allegato al libro di tecniche di arrangiamento jazz per piccoli e medi ensemble il libro edito da cobert edizioni musicali e si trova in vendita online su www.ultrasoundrecords.eu in questo video relativo agli esempi contenuti nelle varie pagine del libro potrete vedere la partitura che scorre in sincrono con l'audio registrato tra l'altro da musicisti in carne ed ossa con i vari appunto dei vari esempi contenuti nel libro che illustrano in maniera sintetica le varie tecniche di scrittura jazzistica per gli ensemble con l'uso di vari voicing l'uso della manipolazione melodica e ritmica quindi buon ascolto grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.